C'è sempre più acciaio nelle operazioni di Fratelli Kosulic, il gigante dello shipping che opera in 18 paesi, a ricavi per un miliardo e mezzo di euro l'anno e comprende oltre 90 società. L'ultima a fare il proprio ingresso nel gruppo a ottobre è stata Profilmec. Il produttore di tubi con base a Torino, una capacità di 350.000 tonnellate l'anno, è stato acquisito da Trust Steel, il trader svizzero partecipato per il 37% proprio da Fratelli Kosulic. Siamo molto contenti di questa acquisizione, noi vogliamo fare impresa, come al solito è nella visione di Fratelli Kosulic ma anche è nella visione di Trust Steel quello di acquisire, fare impresa, investire, creare occupazione per i giovani e questo è il nostro karma, è quello che vogliamo andare avanti. Speriamo tanto che Profilmec ci dia delle situazioni ma io ritengo che abbia una fetta di mercato molto consistente ed è un'azienda di grande successo, come sapete ha due stabilimenti, uno a Raconigi e uno vicino a Pordenone. Ho visitato entrambi, sono entrambi stabilimenti molto efficienti con ottimo personale per cui diciamo che ci sono tutte le premesse per far bene. Avete in programma altri investimenti nell'acciaio? Sicuramente sì, se non ci fermiamo qua andremo avanti perché come detto non vendiamo, a differenza di molte altre famiglie genovesi e non, noi non vendiamo ma solo compriamo perché è il momento delle opportunità, è il momento di fare impresa, è il momento di tirare fuori i soldi perché tenerli in banca non serve niente, si perdono solo. Da luglio 2020 Trastile è anche proprietaria con Vanomet al restante 30% dell'audinese officine Tecnosider che ha una capacità produttiva di 350.000 tonnellate l'anno di lamiere da treno e che è stata quindi al centro insieme a tutto l'hab siderurgico della rilaminazione di San Giorgio di Nogaro di quella rivoluzione per l'import di Bramme che è stato lo scoppio della guerra in Ucraina che ha bloccato i flussi provenienti dal porto di Mariupol. E' stato un po' uno sbaglio per quelli che erano prima di affidarsi quasi totalmente diciamo a un unico fornitore che era l'Ucraina, è stata pagata a caro prezzo questa scelta, adesso chiaramente si sono tutti organizzati direi in tempi molto brevi, importiamo le Bramme dall'India, dal Brasile, dalla Cina per cui insomma c'è una disponibilità notevole. Proprio Mariupol è stata bloccata per nove mesi la nave cargo Zarevna della Vulcania, società del gruppo Kosulich. Dopo una lunga trattativa con faccendieri russi, Kosulich aveva spiegato a Siderweb l'estate scorsa, la nave ha potuto lasciare il porto ucraino ma senza il suo carico di 12.000 tonnellate di Bramme. Ma comunque abbiamo la nave, è stato un lungo periodo dal 24 di febbraio, quindi una lunga attesa, grazie a cielo che i noli di mercato sono abbastanza alti, per cui abbiamo portato prima a fare delle riparazioni che erano dovute perché c'erano molti danni dovuti al bombardamenti, non ingenti però dei graffi e delle piccole ammaccature e così via. E poi dopo ciò l'abbiamo fissata già a lungo termine con un buon noreggiatore, quindi poco a volte recuperiamo il perso. Comunque direi che è una storia quasi a lieto fine. Ma con navi che arrivano in Italia da oltreoceano, con dimensioni molto maggiori, sono insorti altri problemi di tipo logistico. Chiaramente ha dei costi un pochino superiori, logistici soprattutto, e soprattutto qual è il problema che sono le navi? Prima venivano a Monfalcone piccole navi che potevano essere gestite, il flusso delle bramme per i laminatoi di San Giordino Garo venivano gestiti in maniera molto soft, diciamo. Adesso arrivando navi grandi, da 40.000 a 50.000 tonnellate, si ammassano queste bramme nel porto di Monfalcone ed è difficile farle transitare velocemente ai laminatoi. Tutte le vogliono subito e quindi in conseguenza creano dei problemi logistici non indifferenti. E noi siamo lì per questo, obiettivamente cerchiamo di fare del nostro meglio per fare contenti tutti quanti. Quanto ai prossimi mesi, il presidente e amministratore delegato di Fratelli Kosulic si è detto ottimista. Dopo un buon 2021 e un 2022 ancora migliore, ha detto a Genova nell'ultima tappa di bilanci d'acciaio, il 2023 non sarà negativo. I contenitori sono crollati perché da quello che era 15.000 dollari o forse un pochino di meno per un contenitore da 40 piedi dall'estremo oriente al Mediterraneo o all'euro d'Europa siamo passati adesso quasi a 2.000, a 2.500. Siamo arrivati quasi a dei livelli pre-pandemia per cui è stato un crollo. D'altro canto invece per quanto riguarda le altre navi, per cui le navi dell'acciaio, del grano, del carbone, le petroliere e tutto quant'altro, i nodi si mantengono decisamente non eccezionali ma comunque buoni e permettono certi margini di guadagno, per cui in quel senso lì siamo soddisfatti. Prevede che rimarrà stabile la situazione per i prossimi? Noi sì, noi pensiamo che ci sarà magari un calo all'inizio dell'anno prossimo, un pochino, ma poi dovrebbe riprendersi la seconda metà dell'anno. Noi continuiamo a investire in navi, quindi abbiamo adesso una nave proprio che è sotto transaction diciamo, speriamo di concludere entro oggi o domani e quindi continuiamo a investire perché riteniamo ancora che sia un mercato che ci dà delle soddisfazioni. Con questo ottimismo Fratelli Cosulice tornerà a maggio a Made in Stile 2023. Come vi presenterete? Cosa vi aspettate? Sicuramente saremo presenti alla grande sia con Profilmec, sia con Trasteel e sia con tutte le società del gruppo Fratelli Cosulice nel campo delle spedizioni e così via. È una fiera molto importante, siamo molto contenti di partecipare, è una grande esposizione che permette veramente di vedersi insieme. Abbiamo tanto bisogno di comunicare, abbiamo tanto bisogno di vedersi e di parlare. Senza comunicazione il business non va avanti, non ci si capisce, quello è molto importante, comunicare, comunicare, comunicare.